la prima volta in madalina a hollywood questo video tienilo sarò giù da qualche parte a ritirare un premio che emozione va a essere qui? basta che ci sei tu, basta che c'è Pascal Vicedomini che poi tutto deve andare bene tutto un caos, spazia totale però c'è lui, quindi le cose funzionano funziona così ho visto che socializzavi con zucchero appena ti ha visto ha avuto un colpo di fulgine è questa un po' la chiave del tuo successo che dai subito una bellissima impressione al di là della tua bellezza sì, la bellezza interiore buona fortuna grazie grazie